Buongiorno a tutti, mare mossetto, piastra immersa, mi auguro si veda, sensibilità manuale 30. La macchina è sicuramente più stabile dell'ultima volta, a volte qualche fazzetto c'è, ma considerate anche un po' di corrente c'è. Non è che la macchina è spensa, è uscita dall'acqua, vado alla sensibilità. La macchina è sicuramente più stabile dell'altra volta, quindi ricerca fattibile. Bene, la piastra immersa, al mare, con sensibilità manuale a 30, anche se secondo me non ha più o meno senso, considerato comunque che in auto più 3, con sensibilità tra il 26 e il 28, che ce l'infila da solo, è più che stabile. Bene, ciao a tutti!